Nel punto che ho subito una violenza simile, uno schifo tale che io veramente, cioè poi la gente, io mi domando con quale coraggio ti metti contro di me perché un mimo delle persone che mi frequentano, mi conoscono e lo sanno che io sono bravissima, ma sono la persona più vendicativa sulla faccia della terra. E se ti permetti di farmi del male, il male che mi ha fatto questa persona, voi non avete idea veramente dello schifo che ho dovuto subire, poi ti fai proprio la tua condanna a morte. Allora partiamo col presupposto, proprio bam, bam barabam, che io sono incinta ragazzi da tre mesi, io sono incinta da tre mesi, adesso dovrò abortire, non volevo abortire, in realtà io lo volevo ottenere questo bambino, Ma mi vedo costretta ad abortire nonostante ci sia il 90% di rischio che io rimanga sterile a vita. Pensate quanto possa avermi fatto male questa persona per fare una cosa del genere. Cioè questa persona mi ha rovinato l'esistenza perché io non potrò mai più avere figli in vita mia per colpa di questa persona che mi ha propositamente messa incinta due volte, guarda caso i 24 anni della tua vita non ti è mai successo, con fishball ricca, famosa, due volte. La prima volta ho abortito a Miami, sono stata malissimo, la seconda volta purtroppo mi è stato detto che se io avessi fatto un altro aborto sarei rimasta sterile. Cosa mi ha portato a fare questa scelta? Partiamo col presupposto che tutti sapete quello che è successo con il mio ex, che ha puntato una pistola in testa a questa persona e questa persona... Adesso partiamo proprio dall'inizio, così saprete che cosa è successo e che schifo sto dovendo subire, che io mi sto veramente... Non avete la più pali idea di quanti assiolitici io mi stia prendendo perché sto veramente uscendo fuori il cervello. Questa situazione per me sta diventando insostenibile, cioè io lo auguro a qualsiasi donna che non succeda mai una roba del genere perché è veramente grave, è veramente grave che questa persona mi abbia messo nella condizione di non avere mai più figli in vita mia. Quindi se io sto facendo questa cosa è perché veramente voglio che questa persona soffra almeno un quinto di quello che sto passando io. Trasciando il fatto, conosco questa persona, ok? Tutto a posto all'inizio, partiamo col presupposto che innanzitutto mi ha passato tre malattie sessualmente trasmissibili, ok? E io ho fatto una cura dei tre mesi perché penso a... Cioè, poi uno dice, ma sei talmente l'altrina che veramente c'è il cazzo più sporco del cesso dell'autogrill, è passato il tricomonas, la candida e la cardenella, io ho fatto una cura dei tre mesi, avrei dovuto farmi qualche domanda, no? Però io sono talmente buona che dico, boh, vabbè, sarà stato qualcuno prima di me che era sporca, mai è successo questa roba a me? In anni, raga, io veramente ho preso tre cazzi in sette anni, ma di che stiamo parlando? Partiamo col presupposto che questa persona, oltre ad avermi passato le malattie sessualmente trasmissibili dall'inizio, mi ha rubato 2500 euro in casa da una bottiglia che si è andato a giocare alle macchinette, ok? Io questa cosa adesso l'ho scoperta e ho scoperto tante altre cose, ma partiamo proprio dall'inizio. Inizio a litigare con questa persona perché vedevo che era un po' troppo interessata ai miei soldi, nel senso, io sono una persona molto generosa e se guadagno il triplo di te, cioè te do pure l'anima, capito? Perché io sono una persona infinitamente generosa, quindi ho iniziato a pagare, a spendere 300 euro di Uber ogni giorno per mandare in giro sta persona, per pagare gli da mangiare, gli ho regalato un Moncler da 3000 euro, cioè pensate quanto cazzo sono idiota io, no? Capito? Cosa succede? Che praticamente inizio a vedere che c'era un po' troppo interesse economico da parte di questa persona nei miei confronti, ok? Fatto sta che questa persona sapeva che se io rimanevo incinta un'altra volta, dato che ho già fatto due raschiamenti, ho già preso una pillola, io non posso prendere la pillola perché avendo bipolarismo mi causa proprio dei problemi psicologici immensi, quindi non posso prendere la pillola anticoncezionale, ok? Questa persona lo sapeva, mi ha messo incinta di proposito per incastrarmi e per incularmi i soldi, cioè capite lo scempio che io sto veramente subendo dopo che ho difeso anche questa persona? Cosa succede? Che praticamente noto un grande interesse economico nei miei confronti e ho iniziato a notare delle robe strane. La prima volta che io ho cacciato questa persona, perché adesso, dato che si vergogna così tanto delle robe che fa, voglio che anche tua madre sappia che sei un tossico che se fate MD tutti sabati, venerdì, domeniche, perché tiriamo fuori tutto adesso, no? Io non ho mai detto che non faccio serate e robe, fatto sta che il 25 dicembre avevo comprato delle cose che costavano 90 euro e le avevo nella borsa. Cosa succede? Che torno dal bagno, apro la borsa e vedo che queste cose non c'erano più, le aveva prese e le aveva regalate a tutti i suoi amici per fare il figo con i miei soldi, tanto per cambiare. Dato che queste cose succedevano in continuazione, lo caccio di casa, cosa fa questa persona? Cosa che ho scoperto anche dopo, che praticamente nel momento in cui lo caccio, dato che non ha un euro e va letteralmente a mangiare alla Caritas, cioè tu devi ringraziare il Dio che io sono una persona poco superficiale e ti ho considerato, perché a me, se sei famoso, ricco, non me ne frega niente, invece dovrebbe fregarmene, perché purtroppo tutte le persone che non lo sono, da te vogliono solo quello, per quello io sono sociopatica e mi fa schifo la gente, ok? Perché tutte le persone mi vogliono usare o per il mio successo o per i miei soldi, perché così è, così è. L'ha fatto il mio ex quando ci siamo conosciuti per far spiegne la musica e poi ha iniziato a levarmi tutto. L'hai fatto tu? Cercato di incularmi i soldi mettendomi incinta apposta per incastrarmi, sapendo che io poi potevo rimanere sterile, mettono nella condizione di doverlo tenere per forza e poi mi viene a rubare. Fatto sta che io caccio questa persona di casa, cosa fa questa persona? aveva visto uno dei codici di un telefono che avevo in studio che io poi ho scoperto cosa è successo. Io infatti mi devo scusare con sta cosa qua, con taxi, perché ho scoperto praticamente dopo settimane che praticamente il telefono che aveva usato questa persona per pagarsi l'Uber, dopo che l'ho cacciato, perché mi ha detto io prendo un Uber e me ne vado, in realtà aveva sbloccato uno dei miei telefoni e si è chiamato un Uber con la carta di credito di taxi! Cioè, di quello che gli ha puntato la pistola alla testa, ma ci rendiamo conto! ci rendiamo conto di che papapara, 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 sì, questo è successo, raga! Fatto sta che io mi incazzo come una belva, ci parlo più con sta persona, scopro di essere incinta, scopro di essere incinta, quindi lì me ne vado in sbatti perché dico e adesso cosa faccio? Cosa fa? Perché se non lo tengo, rimango sterile, rimango sterile a vita! Quindi, do un'altra... Pensate quanto sono stupida, pensate quanto sono stupida, perché sono veramente troppo buona! Do una seconda possibilità a questa persona che mi supplica, io metterò anche gli screenshot tra un po', raga, perché mi sono veramente cagata al cazzo! A me nessuno mi fa paura, a me nessuno mi minaccia, a me nessuno me la mette al culo, perché io sono bravissima, ma se tu cerchi di rovinarmi l'esistenza, firmi la tua condanna, io divento il tuo inferno sulla terra, perché io non me faccio trattare così, io sono una donna con i controcoglioni, e se voglio te piscio in testa col cazzo che non hai, perché c'ho più palle di te! Allora, fatto sta che, do una seconda possibilità a questa persona, dopo uno scempio che aveva già fatto, ok? Cosa succede? Che inizialmente, ah no no, aspettate perché c'è una roba che ho tralasciato, è importantissima, durante la sua permanenza in casa, mi spariscono 2500 euro, che avevo in una bottiglia di plastica, ok? Mi spariscono dei soldi che io avevo messo a parte per mia sorella, per mia sorella, ok? Delle monettine che mettevo lì ogni giorno, per aprire un libretto a mia sorella, penso a quanto sei merda, che è anche una sorella disabile, penso a quanto fai schifo, fatto sta che mi spariscono sti soldi, ok? Io, sul momento, non penso neanche che potesse essere lui, ma conti fatti, ci metto la mano sul fuoco, sapete cosa fa questa persona, quando mi spariscono sti soldi, in colpa, suo cugino, Gibril, di Torino, dicendo che, sua madre, gli aveva detto, ma che cosa ci fai con lui, ma non lo sai che, cioè, pensa a quanto sei infame, pensa a quanto sei infame, fai ricadere la colpa sul tuo cugino, da sangue, dicendo che molto probabilmente era stato lui, poi dice, no no no, ma chi è stato qua, cerca di tirare la colpa addosso, ad Amin, al dottore, a Yusuf, che io non gli ho neanche detto, queste robe a queste persone, ok? Ai suoi migliori amici, prepararsi il culo, cerca di fare ricadere la colpa su di loro, io non ho detto niente, fino ad adesso, perché io non sono, uno schifo, ok? Cerca di fare ricadere la colpa su di loro, e io già lì dovevo farmi due domande, perché, se te la colpa è tuo cugino, io dico, vabbè, non lo so, fatto sta che passo anche sopra sta roba, nonostante mi stesse triggerando il cervello, perché io dicevo, ma chi può essere stato, chi può essere stato, aver preso questi soldi, quindi, ho messo delle telecamere in casa, cioè, pensate quanto mi ha destabilizzata sta roba, io ho smesso di fidarmi di chiunque, perché ti ospito in più, mi derubi, fatto sta che lo perdono, inizia a comportarsi bene, inizialmente, cosa succede? Che io inizio a fare delle analisi, perché decido di tenere sto bambino, che adesso non terrò più, perché io con questa persona non ci voglio avere più a che fare, piuttosto rimango sterile a vita, piuttosto lo adotto un bambino, se lo voglio, fatto sta che decido di tenerlo appunto, e inizio a fare degli esami, io ho una malattia di tipo autoimmune, al sistema immunitario, motivo per il quale mi ammalo, un giorno sì, un giorno no, ho l'artrite, ho l'orticaria, ho mille robe, perché non sto bene le salute, questa persona lo sapeva, e io gli ho detto, senti, il medico mi ha detto che sarebbe consigliabile che io non vada nei club, perché rischio di ammalarmi, e rischio di mettere a rischio la gravidanza, cioè rischio che il bambino muore, ok? Cosa succede? che questa persona va a ballare, di nascosto, e come lo scopro, perché usa la mia carta di credito, e mi esce il nome del club dove stava andando a ballare, e il giorno dopo torna a casa mia, sapete cosa è successo? che a venerdì è andato al bando, io ho chiamato chi lavorava lì, chi lavorava lì per chiedergli, no ma ti giuro, io non ci sono andato, io ho dormito in macchina con il mio amico Omar Sito, che è rubriaco, ma io lì non ci sono entrato, chiamo quelli del bando nel locale, che spero che tu non ci metta mai più il piede lì, perché, cioè, veramente, chiamo quelli del bando, e mi confermano che lui lì c'era entrato, ed è tornato a casa, sapendo che poteva uccidere suo figlio, cioè ma vi rendete conto, ma vi rendete conto raga della malattia, della malattia, cioè, veramente hai dei problemi gravissimi, che tu metti in pericolo la mia vita, e quella del tuo figlio, per andare a ballare in un club, e usi la mia carta di credito, fatto sta che, scopro questa cosa qui, perché, un giovedì, va al volt, e usa la mia carta, siccome io sono, forte, con i computer, e se voglio, ti hackero, anche il buco del culo, mi connetto, allo stereo, a cui era collegato, e registro, un suo amico, che è parlato lui, al volt, mi fa, e no sai, perché mi ha scritto questo un grano, e mi ha detto che aveva gli ingressi, bla bla bla, blu blu blu, oltretutto sono andata a casa sua, che non hai capito, quella è casa di fishbowl, ma ormai lui è intoccabile, hai capito, parlano di me come se fosse un trofeo, aveva fatto entrare uno sconosciuto, in casa mia, io dopo ho controllato, nelle tale camere di sorveglianza, ho fatto entrare uno sconosciuto, per flexare, casa mia, dopo che mi hanno rubato dei soldi, tu fai entrare uno sconosciuto in casa, e non mi dici niente, io l'ho scoperto così, la raga ma di che cazzo parliamo, il fatto sa che io scopro tutte queste cose, gli dico tu, in casa mia non c'entri più, gli dico ti chiudo fuori, cosa fa questa persona, alle quattro, con una incinta, che sta per avere una psicosi, mi sfonda la porta, alle quattro, mi sfonda la porta, di casa, e mi leva il telefono, perché io, a me è venuto un attacco di panico, sai com'è, la donna incinta alle quattro, gli entri, sfondano la porta di casa, se ne vai e sbatti, il fatto sa che mi leva il telefono, io lo riempio di schiaffi, perché dicevo dammi il mio cazzo di telefono, fammi chiamare la polizia, fammi chiamare mia madre, lo riempio di schiaffi, perché non ci ho visto più, e niente, e niente, poi il giorno dopo lo caccio, ma non è finita qua raga, non è finita qua, perché io poi ho scoperto, chiamando quelli del The Club, che quando avevo fatto quel casino, per difenderlo, ho scoperto che, stava nella lista nera di tutti i locali, e questo deficiente, mi ha fatto fare, le storie, contro il The Club, sapendo che l'avevano sbattuto fuori, cioè vi rendete conto di che, psicopatia, a livelli proprio, mitomania, a livelli estremi, non ho mai visto una persona, con così tanti problemi mentali, che poi da me è della pazza, ok, praticamente, chiamo quelli del The Club, scopro sta roba, chiamo quelli del Bendo, scopro anche sta roba, e lì, lo blocco, dico io con te, non ci voglio più avere niente a che fare, provo a contattarmi, a fare qualsiasi cosa, e veramente ti denuncio, per tutto lo schifo, che mi hai fatto, ok, oltretutto parlava male del Cico, perché si scopava la sua ex, quindi non si fidava né di Cico, né di dottore, ha cercato di buttare la colpa su di tutti, ok, è che tutti i suoi amici fanno schifo, i tuoi amici non fanno schifo, sei tu, sei tu, cioè i tuoi amici sono brave persone, so io come sono scelta il più marcio, il più marcio, cioè hai buttato addosso la colpa, addosso a Cico, addosso a dottore, dicendo che sono tutti degli infami, che non ti fidi, che la prima volta che abbiamo litigato, t'hanno sputtanato al baobab, quindi tu non ci puoi fidargli di loro, perché dicevano la verità, che mi avevi trattato come uno schifo, perché hanno detto la verità, oh mio Dio, ok, fatto sta che lo blocco, cosa scopro, oggi, mi scrive, una mia fan, dicendomi, che ieri Jimmy se l'è scopato, e non sapeva che fosse lui, ok, mi scrive una mia fan, mi fa, dopo che ho visto il profilo, Feli, cioè io ti seguo, mi sono sentita in colpa, e te l'ho detto, io adesso non farò il nome di questa ragazza, anche perché è stata correttissima nei miei confronti, ciò tu pensa, dopo io che due giorni te piscio, sono incinta, oh no, ti prego, perdonami, perché io ti amo, tu ami i miei soldi, coglione, tu ami i miei soldi, te scopri una mia fan, con io incinta, dall'altra parte del mondo, che so, ho la febbre, per colpa tua, oltretutto perché sei andato a ballare, ma di che cazzo stiamo parlando, raga, e poi io me devo stare pure zitta, io spero che tutte le persone con cui lavori, e ma scouting, Alex, non so cosa, glieli manderò questi video, perché tu, smetti di lavorare, perché tu hai cercato di rovinare la mia esistenza, e nessuno fa così con me, io rimarrò sterile a vita per colpa tua, razza di schifo, ma ci rendiamo conto, tu mi hai rovinato l'esistenza, tu adesso non esci più da nessuna parte, e fatti pure difendere dai tuoi amici, che infami sono dalla mia parte, i tuoi amici sono dalla mia parte, perché non hanno mai visto uno schifo del genere, hanno ragione, fatti due domande se danno la ragione a me, fatti due domande, adesso, dato che io non dico cazzate, dato che io non dico cazzate, mettiamo gli screenshot, mettiamo gli screenshot, perché io, raga sono stata zitta per tre mesi, ho subito uno scempio, per tre mesi, cioè questa persona mi ha messo in cinta apposta, per incularmi i soldi, tutte queste robe qua, e poi vai, cioè metti in pericolo la vita del tuo figlio, e poi io no, devo stare zitta, sapete cosa mi ha detto oggi, uno gli ha detto, tu ti sei finito, ti sei finito, tu, mi vuoi rovinare la vita, tu, tu mi vuoi rovinare la vita, tu paghi le conseguenze, le tue azioni, tu hai cercato di rovinare la mia, e nessuno lo fa, nessuno lo fa con me,